musica Il loro Natale è il primo film documentario diretto da Gaetano Di Vaio che narra le storie di donne legate al mondo del carcere mogli, mamme e figlie di persone recluse che si ritrovano da sole a fronteggiare le difficoltà quotidiane legate alla sopravvivenza di provvedere a se stessi, ai propri figli e ai congiunti detenuti uno sguardo dall'interno di chi come lo stesso regista conosce la strada, la povertà, il carcere e la tossicodipendenza Il film Il loro Natale apre uno squarcio in un mondo fatto di relazioni difficili e compromesse dalla detenzione uno sguardo importante su un aspetto della vita delle famiglie e dei detenuti raramente preso in considerazione dalla società Scopo di questa iniziativa è mettere al centro del dibattito pubblico partenopeo il tema della condizione carceraria invitando le istituzioni locali ad investire nelle periferie per creare opportunità per giovani come ad esempio il progetto per la creazione di un centro sperimentale di produzioni cinematografiche indipendenti nel quartiere di Scampia Un'iniziativa molto bella perché descrive un'umanità importante, descrive il dramma dei familiari dei detenuti un mondo che certe volte si può da parte degli altri tener lontano dai problemi e dai pensieri invece compito di tutti quanti creare le alternative nella società affinché non si cada nel percorso del crimine e della delinquenza quindi un film molto interessante che ho visto, molto bello, di grande umanità